Se stai riscontrando problemi riguardo a FIFA 25 che non riesce a trovare delle partite in Rivals è probabile che c'è qualche errore nella sua cartella oppure un errore direttamente sul gioco riguardo alla connessione di rete che non riesce a stabilire un contatto quindi in questo caso anche se hai una buona connessione e non riesci a trovare le partite è possibile fare un aggiustamento sul nostro computer quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato così dei comandi da inserire sul prompt dei comandi ovviamente i comandi da inserire sono a questi qua andremo così a svuotare le cache sulla nostra connessione ovviamente prima di fare questo andiamo un attimo su impostazioni di rete e internet impostazioni di rete e internet impostazioni di rete avanzate e ora andiamo così a prendere la nostra connessione io ovviamente uso un cavo ethernet che è meglio della wifi questo qua faccio modifica ecco questo protocollo internet versione 4 in questo caso se vuoi usare degli indirizzi server dns puoi usare quello del cloud flare che è 1 1 1 1 1 0 0 1 questo del cloud flare e potete usare questo server dns io ovviamente uso sempre un server dns automaticamente e basta se non dovesse funzionare puoi sempre risolvere il problema su risoluzioni, problemi, impostazioni, risoluzioni, problemi della tua rete altri strumenti di risoluzione dei problemi ed ecco qua rete internet eseguiamo così una scansione per vedere qual è il nostro problema qua dice che se connesso a internet in questo caso controlla sempre la connessione del cavo ethernet riavvia il modem, riavvia il computer quindi se il cavo ethernet connesso a un modem, un router o un commutatore riavviare il dispositivo se possibile in caso contrario potrebbe essere necessario contattare il personale di supporto IT quindi chiudiamo un attimo qua e ora andiamo un attimo su una volta fatto vai un attimo su windows defender qua sotto protezione da virus e minacce, scende fino a giù fino a trovare così vestisci impostazioni, scende fino a giù fino a trovare esclusione facciamo così, aggiungi un'esclusione mettiamo così il file vado direttamente sul mio computer e vado così a prendere via25.exe e lo inserisco qua ovviamente vado a prendere direttamente l'applicazione nella sua cartella che finisce come .exe e lo inserisco sulle esclusioni di windows defender in caso windows defender faccia delle modifiche alla sua cartella quindi escludiamo quindi lo mettiamo nelle esclusioni così windows defender non deve toccare la cartella di fifa una volta fatto vai direttamente sul cmd prompt dei comandi seguiamo come amministratori il prompt dei comandi inseriamo il primo comando per disconnettere la nostra rete questo è per disconnettere, riconnettere e poi fare una pulizia sulle cache sulla nostra rete quindi il primo comando avevo già inserito questo comando quindi in questo caso vado a riconnettere la mia rete eccolo qua ho connesso così la mia rete e poi faccio svuoto così le cache sulla rete cache del resolver DNS se non riesce ancora a trovare le partite devi chiedere per forza assistenza alle electronic cards ovviamente sperando che rispondono alla richiesta d'aiuto se non dovesse funzionare riavvia il computer e prova a vedere se riesce a trovare le partite per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao